duecento venticinque sono stato uno stupido duecento ventisei sono stato costretto duecento ventisette 그건 아무것도 아니었어 non è stato niente duecento ventotto 재미 있을 거야 sarà divertente duecento ventinove 그거면 충분할 거야 sarà suficiente duecento treinta è esaurito duecento treinta 모든 것이 정상 va tutto bene duecento treinta due 뭐가 잘못됐어 adesso c'è qualcosa che non fa duecento treinta 뭐든지 뭐든지 va bene qualsiasi cosa duecento treinta duecento treinta quattro non c'è qualcosa non c'è qualcosa non c'è qualcosa stai facendo benissimo duecento treinta duecento treinta duecento treinta non c'è qualcosa che non c'è qualcosa sono nervoso duecento treinta duecento treinta ho preso il raffreddore duecento treinta duecento treinta sono sorpreso mi sono perso mi sono perso Grazie a tutti